18 comuni coinvolti tra Bellunese e Trevigiano e 33 giornate segnate sul calendario. Gioriranno soprattutto i bambini, ma anche gli adulti che ammirano sempre con stupore la bellezza del teatro di figura e delle arti di strada. La sedicesima edizione della rassegna teatrale Figuriamoci durerà all'incirca due mesi, prendendo il via venerdì con una serata fuori provincia a Vidor. Il debutto nel Bellunese è invece previsto giovedì 22 luglio a Cesio Maggiore. L'organizzazione è di terzo suono, mentre la direzione artistica è affidata a Paolo Rec con Bamba Bambin e Teatri Nomadi. Proprio Rec evidenzia come non si tratti solo di spettacolo di burattini, a differenza di quanto erroneamente si potrebbe ipotizzare. Sono spettacoli di teatro di figura e di arte di strada, dedicati in particolar modo a bambini e famiglie, ma non solo. Ci sono spettacoli come ricordavi tu di burattini, poi ci sono marionette, teatro dei piedi, ma poi anche teatro circo, clownerie, giocoleria, tutto questo genere che fa parte di queste categorie. Grazie al contributo dei comuni coinvolti l'accesso agli spettacoli è gratuito, anche se è consigliata la prenotazione tramite il nuovo sito ufficiale www.figuriamoci.eu. A patrocinare il tutto è l'Unione Montana Feltrina. Un grande appuntamento soprattutto per bambini e famiglie con ospiti anche di caratura nazionale e internazionale. Da parte mia, come Unione Montana, un ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali che da tanti anni sostengono questo progetto così importante di appuntamento per le nostre famiglie feltrine. Grazie a tutti.